Buongiorno a tutti ragazzi e forza Juventus. Come ben sapete questo è il nuovo messaggio che vi darò da qui alla fine del campionato prima, quindi in apertura e dopo, quindi chiusura, ogni video. Perché dobbiamo tornare a ragionare sulla Juventus, intesa come colori, intesa come squadra, non come singoli, non come protagonisti perché come vi dicevo anche ieri i giocatori, i dirigenti, gli allenatori vanno e vengono ma la Juve resta e quindi questo è assolutamente la cosa più importante. Ieri abbiamo fatto una live qui sul canale, devo dirvi la verità, è stata una live molto interessante perché siamo andati a toccare alcuni argomenti, avevo intenzione di prendere un estratto della live e ricaricarvelo qui su YouTube ma non mi piaceva perché sarebbe stata una roba molto pigra e quindi ho deciso di fare un contenuto un pelo diverso in cui vado a prendere diversi elementi di discussione che abbiamo trattato ieri e li vado ad integrare con elementi inediti. Quindi chi ha già visto la live avrà dei pezzettini in più e chi non ha visto la live invece avrà un contenuto nuovo di partenza. Voglio partire da quelli che sono i giornali per un motivo, voglio cercare insieme a voi di fare il punto della situazione perché due giorni fa, tutto sport o ieri o due giorni fa, comunque nelle ultime ore, ha pubblicato un articolo dove diceva che Allegri sarebbe disposto a rimanere a Juventus anche in scadenza di contratto che è deluso umanamente da quella che è la situazione della Juve che non si fa sentire, resta zitta, non va a parlargli, non va a spiegargli quelle che sono le linee guida per il futuro e che dentro la Juventus c'è pure qualcuno che vorrebbe farlo fuori e che quando vanno a fare determinati tipi di eventi come in occasione della festa del record di panchine di Allegri nei confronti di Lippi non erano presenti alcuni dirigenti per farle foto. Stiamo parlando ovviamente di Francesco Calvo e non è una novità, sappiamo benissimo che tra Calvo e Allegri, o forse meglio dire tra Allegri e Calvo, non scorre buon sangue. Ma questa è un'altra storia, questa è una visione di tutto sport che tra l'altro mi sembra anche corretta come fotografia dal punto di vista della delusione umana. Io ci credo che Allegri sia deluso dal punto di vista umano perché un professionista che è arrivato a questo punto della stagione, e col contratto in scadenza l'anno successivo non sa ancora di che morte dovrà morire, beh, è una situazione che francamente dal lato di Allegri è comprensibile e genera nervosismo. E questo nervosismo lo stiamo avvertendo da più parti, dalle chiacchierate di branchini, da alcune uscite di Allegri e come vi dicevo ieri dal punto di vista mediatico, dal punto di vista della comunicazione, Allegri sta sbagliando tanto se non tutto. Che dentro a Juventus ci siano diverse correnti di pensiero sull'allenatore, io credo che questo sia un dato di fatto. Che Allegri rimarrebbe anche in scadenza, non sono convintissimo, però penso che Allegri stia cercando di giocarsi tutte le sue ultime carte per capire effettivamente quale sarà il suo futuro, ma giustamente dal punto di vista professionale è necessario avere le idee chiare. Ieri invece abbiamo avuto Calciomercato.it che va a dare un'esclusiva, che ha fatto chiacchierare non poco, e cioè la volontà di John Elkan di tagliare con il passato, di annullare quello che era stato l'ultimo legame con Andrea Agnelli e quindi di salutare definitivamente Massimiliano Allegri al termine della stagione. E allora voi direte, ma come? Ci può essere un po' di contrapposizione tra queste cose? Sì e no, in realtà vanno ancora abbastanza nella stessa direzione. Allegri deluso, rimarrebbe anche in scadenza. Dentro noi vogliono farlo fuori e infatti sarà Elkan a dare il taglio col passato. Aggiungiamo le dichiarazioni di Galeone, che è il mentore di Allegri, che l'altro giorno ha detto lo vedrai bene in Premier, penso che sia giunto l'ora per Max di andare fuori dall'Italia. Ok, e andiamo a scontrare queste tre visioni con un articolo che è stato pubblicato questa mattina su Gazzetta in prima pagina. E cioè, se Allegri arriva in Champions, allora poi resta in sella. Allora questo va in contrapposizione con tutti gli altri. Com'è possibile che Elkan taglierà col passato, arriva l'addio ad Allegri, che potrebbe essere giusto arrivato il momento per andare in Premier League, è deluso umanamente, rimarrebbe anche in scadenza, però invece poi Allegri resta in sella. Cioè, tutte queste cose non vanno nella stessa direzione. L'articolo di oggi di Gazzetta va un pochettino in una direzione differente. E allora qua bisogna fare un passo indietro. E per fare un passo indietro bisogna tornare a alcuni concetti che ho espresso nella live di ieri. Ora, io non voglio vendere niente a nessuno. Quindi voi siete liberi di ascoltare questo video, di crederci oppure no. Però qui devo tirare in ballo qualcosa che mi è stato raccontato. Non sono qui a dirvi nemmeno che sarà vero. Non sono qui a dirvi, oh, mi hanno detto questa cosa, ho una fonte segreta incredibile che mi ha detto che questa cosa diventerà vera al 100%. No. Però io vi dico, a me hanno detto questa roba qua. Non so nemmeno io se crederci, non ho nemmeno io la certezza. Però se mettiamo in giro tutti i pezzettini e li mettiamo in fila, da un certo punto di vista io trovo qualcosa di logico. Quindi adesso si apre la parte in cui dobbiamo cercare di fare un po' di illazioni e cercare di capire se queste illazioni possono essere veritiere. Partendo da questa, e cioè che dopo Juventus Genoa 0-0, dentro la dirigenza della Juventus, nelle stanze dei bottoni, nei piani in cui c'è potere decisionale, si è discusso sul futuro immediato di Allegri. Non a fine anno, sul futuro immediato. Perché sul fine anno in teoria sono già tutti abbastanza allineati sul cambiare guida tecnica. Però in questo momento, con la Champions, che sembra un pochettino a rischio, i dirigenti erano lì, alcuni con un'idea, alcuni con un'altra. E se da un certo punto di vista alcuni dirigenti, che hanno potere più sportivo, erano volenterosi di annunciare almeno la separazione dal tecnico al termine della stagione con un comunicato, dall'altra parte c'è un'altra figura, che è Scanavino, che non considera questo il momento giusto per fare un determinato tipo di annuncio. E da qui, e da qui, si è costruita, anzi, più che costruita, si è deciso di confermare una linea comunicativa che alla Juventus conosciamo bene. E cioè quella della conferma di Allegri ai microfoni e alle telecamere. Chi è che da mesi va alle telecamere e conferma Allegri e parla bene di Allegri e il futuro della Juventus sarà con Allegri? Ci troveremo per parlare del futuro insieme ad Allegri? E poi questa roba continua a non essere veritiera, continua a non essere concreta? Allora, esatto, proprio Giuntoli, che ai microfoni dice una roba, però per in privato silenzio, mutismo, non c'è nessun tipo di comunicazione. Fino a quando non si arriva in Champions League del futuro dell'allenatore della Juventus, non si parla. Questa grande linea è la decisione della Juventus, la linea comunicativa della Juventus. Quindi non aspettiamoci conferme, non aspettiamoci esoneri, aspettiamoci del gran silenzio. Questa dovrebbe essere la scelta della Juve. Rimaniamo zitti, rimaniamo in silenzio, tranne quando siamo obbligati ad andare ai microfoni e continuiamo la strategia, la linea comunicativa che abbiamo tenuto fino adesso. Allegri è bravo, Allegri è bello, Allegri lo vogliamo, lui vuole rimanere, bla 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 bla. E qui si comprende lo sfogo di Allegri pre-Napoli. Quando dice, è che questo sia ben chiaro a tutti, a me del futuro nessuno ha ancora detto niente. Quando è giuntoli invece continua a dire, no, tranquilli, noi Allegri ce lo teniamo. E il fatto di non esonerare Allegri oggi, sebbene i risultati vadano in quella direzione lì, e sebbene il rischio di uscire dalla zona Champions inizia a diventare concreto, va in una lettura un pochettino di convenienza nei confronti dei dirigenti. E quella è la strada che si prende, no? Perché proviamo a metterci nei panni di giuntoli. Io sono Cristiano Giuntoli, oggi opto definitivamente per il cambio di Allegri, lo esonero oggi. gli faccio fare le ultime 5, no, quante sono? 8 o 9 partite di Serie A più le 2 di Coppa Italia, si spera 3 al traghettatore. Questo traghettatore non raggiunge i risultati sperati, perché non c'è scritto da nessuna parte che cambiando allenatore poi arriveranno i risultati, e la Juve rimane fuori dalla Champions. Perché ho cambiato. Provate a immaginarvi la reazione della tifoseria bianconera. che non andrà solo ed esclusivamente ad attribuire responsabilità ad Allegri perché la varca stava affondando, ma andrà a prendere giuntoli all'interno del calderone delle responsabilità da suddividere e dicendo, ecco, se avesse invece lasciato Allegri magari sarebbe arrivato in Champions. E dato che sappiamo che dentro alla società, anzi alla tifoseria, alla tifoseria della Juventus, non solo alla società, ma alla tifoseria della Juventus, ci sono delle vere e proprie guerre di posizione in questo momento di trincea, io capisco, non dico che condivido, perché avrei messo i giocatori, perché qui il punto del discorso è che i calciatori devono essere messi davanti alle loro responsabilità, e quindi io avrei messo i calciatori davanti alle loro responsabilità togliendo l'alibi di Allegri. Questo è quello che avrei fatto io. Quindi non condivido questa lettura, ma comprendo che alla base della stessa ci possano essere delle volontà anche di pararsi il sedere. Perché se sono Cristiano Giuntoli, arrivo alla Juventus, che hanno già confermato Allegri, io avrei messo un altro allenatore, e rimane Allegri, e dopo un anno che Allegri è sulla panchina della Juve, è partito bene, arriva verso la fine, siamo vicini al disastro, decido di cambiarlo, e poi alla fine è colpa mia, non mi va bene. Poi che Giuntoli volesse già fare un comunicato per la prossima stagione, questo è quello che mi è stato detto. Liberi di crederci, oppure no, questo è quello che mi hanno raccontato. Poi, non significa che Allegri sarà confermato in panchina fino al termine della stagione, perché se si arriva a quella situazione di più uno o più due sulla quinta o sulla sesta, a seconda di quelle che saranno le posizioni utili necessarie per qualificarsi alla prossima Champions League, allora lì potrebbero decidere di cambiare, perché arrivata la situazione d'emergenza, se poi dovesse andare veramente male e anche il traghettatore non riuscire a conquistare i punti sul campo, non potrebbe essere attribuita la colpa a Giuntoli, o alla dirigenza o qualsiasi dirigente, perché ormai la frittata era stata fatta. Questa è un po' la lettura, e anzi, a questo punto, secondo questo punto di vista, dovessero arrivare davvero a più tre, più tre, immagino l'intorno, sulla zona di non accesso alla Champions si andrebbero a cambiare per dire noi, quando abbiamo avuto l'opportunità di intervenire, l'abbiamo fatto, non siamo stati a guardare. Poi questa è una cosa che aggiungo io, che non è all'interno del pacchetto che volevo raccontarvi. Però attenzione, perché bisogna muoversi anche dal punto di vista della programmazione, perché, faccio un esempio, facciamo finta che l'Aventus abbia davvero scelto Tiago Motta per il futuro, non significa che sarà così, però facciamo finta che. Se hai scelto Tiago Motta bisogna che lo blocchi e per bloccarlo serve la Champions, anche perché magari lui dice oh, io ho contratto in scadenza a Bologna, certo, però sono arrivato in Champions col Bologna, devo venire alla Juve che non fa la Champions, piuttosto sto a Bologna e mi gioco la Champions, piuttosto vado al Milan se mi chiama e mi gioco la Champions, piuttosto se mi chiama il PSG, il Barcellona, una squadra all'estero che gioca la Champions, piuttosto faccio la Champions. Quindi, per bloccare magari questo tipo di allenatore che la Juventus avrebbe identificato come ideale, serve la Champions, non solo per un discorso economico ma anche di programmazione, perché la prima idea della dirigenza della Juventus era quella di arrivare in Champions, andare da Allegri e dirgli, dato che anche giocatori come Rugani stanno rinnovando, spalmando l'ingaggio su più anni, vuoi fare lo stesso e quindi i 7 milioni che ti dobbiamo, te li diamo lo stesso ma in due anni non più in uno? E Allegri avrebbe detto ma chi me lo fa fare per quale motivo dovrei lavorare due anni allo stesso prezzo di uno? Ma il ragionamento della Juventus era quello nel caso di ammortizzare i costi legati all'esonero. Ora, questa non è più l'idea nella testa della Juventus, sempre secondo quella che è stata la narrazione che mi è giunta l'orecchio ma la nuova idea è di far finta completamente di nulla l'atto allenatore di far passare queste giornate di Serie A e in mezzo anche la Coppa Italia perché se poi Allegri non riuscirà a riprendere in mano la squadra ma soprattutto i risultati perché ad oggi si parla di risultati non di ritrovare il gruppo non di giocare bene non di migliorare l'impostazione oggi si tratta di portare a casa i tre punti punto e stop questo è quello che importa perché bisogna arrivare in Champions bisogna arrivare in Champions League questa è la necessità questa è l'urgenza della Juve per riuscire a iniziare a muoversi sul futuro quanti punti mancheranno? boh 8, 9, 10 non ne ho idea però significa tre partite quattro partite giù di lì e vinte e dato che mancano due mesi al termine della stagione significa almeno metà stagione se tutto va bene vincendo le prossime poi le prossime abbiamo l'Alastra la Fiorentina il Torino il Cagliari poi abbiamo il Milan la Roma la Sanerità nel Bologna e il Monza quindi oggi immaginare una stagione stile quella di Andrea Pirlo sul finale di Serie A beh mi sembra assolutamente la normalità credo davvero che la Juventus si sia infilata all'interno di un tunnel decisamente positivo positivo magari decisamente negativo in cui andrai a giocarti la qualificazione Champions intorno alle ultime giornate sebbene tu abbia comunque dei punti di vantaggio perché adesso la situazione non è rosa e fiori anzi poi Allegri non è che lì poverino la vittima nessuno gli dice niente sta buono zitto muto ad aspettare che gli metta la pappa nel piatto Allegri si sta guardando intorno sta cercando di capire se ci sono altre soluzioni se ci sono altre squadre e dato che Galeone parlava di Premier League mi han detto di stare attenti che non significa che andrà lì ma che sta provando a capire le possibilità di andare a Newcastle che è una proprietà che sappiamo comunque ha un potenziale economico alto che ha la volontà di fare una squadra di un certo tipo e quindi Allegri potrebbe aver individuato la squadra reale poi non significa che ci andrà perché dall'altra parte magari dicono no grazie guarda non è assolutamente il tipo di profilo che fa per noi poi io vi dico anche onestamente la mia io Allegri all'estero non me lo immagino ma io non immagino neanche Allegri in panchina l'anno prossimo se viene esonerato dalla Juve perché tanto lui un contratto di un altro anno ce l'ha e secondo me starà tranquillamente a casa a prendersi soldi in attesa di capire se l'anno prossimo l'anno successivo poi ci sarà una squadra interessante per lui e secondo me non all'estero però io vi riporto quello che che mi dicono qui finisce tutto il discorso delle cose che vi ho riportato e che potete scegliere se crederci o no però vi dico dal punto di vista logico tutto questo si incastra molto bene poi vado cauto io personalmente e vi invito a fare lo stesso perché anche l'anno scorso pensavo che Allegri saltasse poi è anche vero bisogna riconoscere che dal punto di vista economico era un disastro l'extracampo le penalizzazioni la Champions sfumata alcuni giocatori vecchi costosi che poi ha ecceduto però soprattutto non c'era ancora una dirigenza sportiva ciò è giunto lì che è arrivato quando Allegri era già stato confermato quindi col senno di poi pensare che si sia andati avanti per inerzia con l'allenatore vecchio attuale dico vecchio perché immagino davvero che dentro la testa della Juventus ci sia la volontà di cambiare al termine della stagione invece oggi comprendo che ci siano tutti i protagonisti giusti per andare a prendere le decisioni magari coraggiose magari anche in popolare per una parte di tifoseria ma che considero comunque corrette però oggi serve confermare la Champions per ragioni economiche è una cosa fondamentale ma anche di programmazione quindi la volontà della Juventus è non parlare non far parlare del futuro dell'allenatore cosa difficile francamente in un momento del genere per concentrarsi solo ed esclusivamente nel raggiungere la Champions perché una volta raggiunta la Champions si apriranno degli scenari differenti poi magari rimarrà Allegri boh io non sono qui a dirvi che tutto quello che vi ho raccontato è vero e non vi dico credete c'è il 100% però la vedo dura perché tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto insieme secondo me sembrano filare molto molto bene però sono anche curioso di conoscere la vostra opinione sotto nei commenti perché il bello di questo canale è il confronto e aprirci a determinate discussioni tutti insieme ragazzi ancora una volta io concludo il video nel modo in cui l'ho aperto e nel modo in cui da qui a fine anno ci sarà sempre apertura e chiusura perché bisogna rimettere la squadra i colori l'amore e la passione al primo posto e quindi forza Juventus e quindi